Musica Cari amici di Terra e Sapori e Vini, eccoci a Londra. Qui oggi si celebra il gusto italiano grazie a Gusto Italia. Grande manifestazione che raccoglie espositori da tutto il paese sotto il cappello da cuoco dell'associazione degli chef italiani che lavorano in questo paese. Siamo con Carmelo Carnevale, il presidente. Come è nata questa manifestazione e che numeri ha quest'anno che la rendono così importante e famosa? Allora, come è nata l'associazione? È nata per un gioco e diciamo più che altro un valore aggiunto a quello che era l'associazione. Questo che cosa ha portato? Ha portato che noi come cuochi, come associati, volevamo far vedere in UK che cosa veramente si produce in Italia e come si migliora e come si può dare qualcosa di esclusivamente stupendo che viene dal nostro paese. Ci sono dei gemellaggi, uno con la Sardegna ma non solo. Mi racconti meglio come funziona questo aspetto? Allora, il gemellaggio che abbiamo è da tre anni con Bosa ed è nato da un vecchio evento che partecipava a Bosa ai migliori borghi d'Italia. Un secondo gemellaggio che ci dà onore è fatto col comune di Pronte insieme al Pistacchio Espo. A questo che cosa abbiamo si è aggiunto quest'anno? È Slow Food. Slow Food nella sezione di UK, United Kingdom. Lo sai che Slow Food non è soltanto in Italia ma lo troviamo in tutto il mondo. La stessa organizzazione è stessa nel mondo. Come APC parte dall'Italia ma si trova in tutto il mondo. In questo caso la sinergia insieme a Slow Food UK è quello che ci ha portato oggi qua anche i prodotti particolari del territorio inglese in versione e menu italiano. Fantastico. In effetti la cosa che salta all'occhio quando si circola per questi stand e si parla con gli espositori è che la qualità è fondamentale. Ma non è un caso perché da quello che sappiamo domani ci sarà anche una grande premiazione. O sbaglio? È giusto, ha detto bene. Domani infatti questo evento nasce come premio della ristorazione italiana e verranno consegnati 10 premi meriti alla carriera. Saranno premiati pure dei giovani per incoraggiare la loro carriera perché si sono già distinti in poco tempo. A Gusto Italia c'è uno spazio ed è questo dove il cibo non è soltanto sapore e piacere del palato. Ci sono altri elementi importanti. Chiediamo quali sono a Gabriella Gasparini e Anna Bazzani. Che cosa significa il cibo oltre che piacere per il palato? Innanzitutto significa buona tavola, buona cucina. E buon umore perché il cibo è buon umore. A lei signora, Anna Mariattino, psicologa appassionata del cibo, chiedo qualcosa che riguarda i sentimenti. Io so che lei col cibo fa delle cose speciali, è vero? Sì, io praticamente sono un'arte terapeuta, uso molto il cibo in quanto considero i colori del cibo come delle guide molto silenti per il nostro cervello, influiscono molto la mente. Ci aspettavamo di trovare di tutto a Londra, a Gusto Italia, ma non i costumi sardi. Invece eccoli qui perché la Sardegna ha un ruolo di primo piano in questa esposizione. E tutto grazie a Mario Stara, il presidente dell'associazione Sacosta e ad Anna Maria. Allora, com'è nata questa collaborazione con Gusto Italia? Allora, questa collaborazione diciamo che è nata quasi per caso. Perché Carmelo, il primo anno che Bosa, noi abbiamo organizzato la grande festa del vino, la prima edizione a Bosa, abbiamo invitato Carmelo che gentilmente ha accettato e ha fatto da giuria alla gastronomia, ai ristoratori che hanno partecipato all'evento. Carmelo da lì, Carmelo è nata anche a Gusto Italia e ci ha invitato e noi siamo diventati una parte in ufficiali perché facciamo parte proprio del cuore anche noi di Gusto Italia. Quanti colori può avere la pasta italiana? Lo scopiamo oggi qui a Gusto Italia grazie alla Surgital che da diversi anni ormai diffonde in tutta la Gran Bretagna il mito della pasta italiana nelle sue infinite forme e anche colori come potete vedere. Ecco qui, sono con Eddie e con Marco che ci raccontano che cosa la Surgital fa in Gran Bretagna per far conoscere la nostra grande pasta. Io sono ospite di Eddie Grems che è il mio collega responsabile della Gran Bretagna da molti anni in Surgita, io lavoro per la zona del Lazio in Italia e mi trovo qui come ospite, però qualcosa di Surgital ve la posso raccontare perché sono quasi 20 anni che ci lavoro. Cosa fate? Facciamo pasta fresca surgelata di tutti i tipi e con una grande qualità e una grande tradizione della cucina italiana. Ah, straordinario! E piace agli inglesi questa pasta? Sì, avete soddisfazione? Beh, piace molto sì. Piace molto? Sono soddisfatto? Sì, sì, sì. Perfetto, quindi un mercato importante che l'Italia ancora una volta riesce a conquistarsi grazie alle sue grandi capacità. Si sa che in cucina il condimento è fondamentale, ma forse non tutti ne sono al corrente. Per questo è importante che oggi qui a Gusto Italia ci sia anche lo stand di All Italia. Abbiamo Roberto Amato, responsabile marketing dell'azienda. Perché ci tenete tanto a far conoscere al pubblico inglese i nostri All Italiani? Allora, ci teniamo perché in Italia noi siamo il numero uno della ristorazione, nel senso che da una ricerca Nielsen è risultato appunto che All Italia è il brand più utilizzato dagli chef italiani. Quindi ovviamente ci teniamo, anche con un evento come questo, che appunto parla di ristorazione e prodotti italiani, anche in Inghilterra riuscire a fare gli stessi passi che abbiamo fatto appunto in Italia. E la vostra proposta, vedo, è molto ampia. Può spiegarci le cose che vi stanno più a cuore in questo stand meraviglioso e ricco? Allora, la nostra gamma è sicuramente tra le più ampie sul mercato. Abbiamo diversi prodotti studiati appunto per la ristorazione. All Italia è l'unica azienda che ha una linea dedicata al retail e una linea esclusivamente dedicata al mondo della ristorazione. Quindi con prodotti formati, indicati per la ristorazione. La gastronomia italiana non è solo cibo ma anche vino. Per parlare di questo siamo allo stand di Alivini che da 40 anni importa in Gran Bretagna vini ma anche prodotti alimentari di alta qualità. Però concentriamoci sul nettare di bacco. Chiediamo a Gianni Segata di dirci come mai gli inglesi amano tanto il vino italiano? Io penso che la ristorazione è stata la prima a divulgare quello che è il prodotto vino italiano. Mi ricordo quando sono arrivato in Inghilterra nel 67 andavi in un ristorante italiano e il massimo che avevano era due vini italiani. Poi da parte nostra c'è stata una voglia di aumentare, di creare dei nuovi mercati e qui è dove noi siamo subentrati. Abbiamo cercato di importare il Brunello, di importare i grandi vini italiani, il Pinot Grigio che allora era sconosciuto, il Prosecco. Il cibo si sa non è solo piacere ma anche salute. Come dimostra questa azienda oggi qui a Gusto Italia? Si chiama Cibo Sano, esiste dal 2003 e a condurla e a pensarla anche prima è Totuccio Castiglione. Eccolo qua. Come mai il cibo è salute? Ce lo racconta? Diciamo che i prodotti italiani sono sempre rappresentati come un'altra fascia di qualità e genuinità dei prodotti. Per cui ho deciso di chiamare Cibo Sano la mia gente proprio appunto perché dare l'enfasi sulla dieta mediterranea che l'Italia domina nella qualità ed è riconosciuta in tutto il mondo. Gradito ospite stasera per il galà di Gusto Italia anche il console generale a Londra, Massimiliano Mazzanti. Eccoci, volevo chiederle, secondo lei qual è il ruolo importante di queste manifestazioni? Perché è così significativo conoscere e far conoscere la qualità italiana? E perché anche premiare chi la diffonde in questo paese? Il premio praticamente rappresenta la fotografia dell'eccellenza italiana in materia neogastronomica. È importante premiare i vincitori perché non è solo il riconoscimento di un impegno molto forte per la promozione di una forma di arte letteralmente italiana come quella dell'enogastronomia, ma è in qualche modo il riconoscimento di quanto è stato fatto negli ultimi 40 anni dal nostro paese e dagli italiani in materia di neogastronomia in questo paese. Siamo stati letteralmente scuola e abbiamo fatto scuola in questo paese. Quindi se oggi la cucina britannica ha avuto uno sviluppo così straordinario e fantasioso, si deve soprattutto, ritengo, alla cucina italiana. Quindi stiamo anche aiutando il popolo inglese a conoscere un po' di più il piacere del cibo, secondo lei? Li stiamo aiutando a capire anche che l'innesto di diversità, in questo caso di italianità, è un plus importante per lo sviluppo del paese, per lo sviluppo dell'enogastronomia. È fondamentale che questa forma di riconoscimento continui anche dopo il recente Brexit, un fenomeno che in qualche modo non riflette pienamente questo paese, che proprio della diversità si è nutrito.